Aggredita da un cane è morta nella notte all'ospedale Papardo, dove era stata trasportata a causa delle gravi ferite riportate. Concetta Giunta, a 88 anni, era stata attaccata dall'animale ieri pomeriggio a Venetico nel cortile della sua abitazione. A morderla ripetutamente, provocando anche le ferite alla testa, che si sono poi rivelate mortali, un dogo argentino di proprietà del genere. L'anziana donna era rimasta in casa da sola, mentre il resto della famiglia era andato a messa. Il cane era stato lasciato nello spazio esterno dell'abitazione e si sarebbe avventato, non appena Concettina Giunta è uscita di casa, a tentare di aiutarle i vicini a corsi a seguito delle urla della donna caduta a terra ed in valia dell'animale. Un mezzo del 118 l'ha immediatamente trasportata all'ospedale Fogliani di Milazzo, in codice rosso. Successivamente il trasferimento al reparto di animazione dell'ospedale Papardo di Messina, dove la donna è morta durante la notte. Una tragedia sulla quale indagano i carabinieri.